I recenti fatti di questi ultimi giorni hanno ripuntato i riflettori sulla questione sicurezza in città. Nei giorni del picco dei contagi e dei tanti gelesi in quarantena, le strade cittadine si svuotano già dopo il tramonto e questo sembra dar via libera ai malintenzionati. Sabato scorso la rapina in pieno centro storico e i danni di una tabaccheria con i due anziani titolari, marito e moglie, costretti a far ricorso alle cure ospedaliere per le percorse ricevute dal malintenzionato. Ieri invece sono tornati gli incendiari. Intorno alle 21.15 le fiamme sono divampate all'incrocio tra via Ruggero VII e via Venezia distruggendo totalmente un Audi parcheggiata sul ciglio della strada. A dare all'allarme alcuni passanti e residenti delle palazzine adiacenti messi in allarme dall'esplosione del serbatoio del carburante e dall'alta colonna di fumo e fuoco che si era sollevata. L'auto era stata parcheggiata solo poche ore prima dal proprietario, un professionista che vive in uno degli stabili lì accanto. Sembra molto probabile l'ipotesi del dolo anche se le cause sono ancora in accertamento. La dinamica lascerebbe però pochi dubbi. Sembra infatti che il focolaio sia partito non dall'auto ma da vicino il marciapiede. Questo farebbe propendere gli inquirenti verso l'ipotesi di una mano dolosa. Nella stessa zona qualche mese dietro si erano già verificati diversi roghi di vegetazione e in un caso non state date le fiamme anche due auto. Una situazione generale insomma che riaccende la paura per la sicurezza delle strade cittadine soprattutto durante le ore serali ed è per questo che le associazioni di categoria dei commercianti rilanciano sulla necessità di maggiori controlli. Se noi ci facciamo una passeggiata in piazza alle 19 di sera vediamo che i commercianti sono abbandonati non c'è non c'è controllo non c'è sicurezza c'è quello che dico io che in un momento così particolare capisco e naturalmente io sono solidale con tutte le forze dell'ordine per il lavoro che fanno ma non dipende dalle forze dell'ordine dipende da chi coordina le forze dell'ordine quindi il mio appello è al prefetto il mio appello è a quest'ora che gela già prima della pandemia un territorio sempre abbandonato siamo ritornati sempre nei tavoli a parlare a discutere ma c'è stato solo quel trafiletto di articoli di giornale che noi abbiamo fatto a questa riunione ma di concreto non c'è stato mai niente. Casa Artigiani chiede un intervento anche al sindaco affinché utilizzi gli agenti di polizia municipale per i controlli sulle strade. L'appello che io faccio naturalmente a 360 gradi anche al sindaco di indirizzare anche alla polizia municipale invece di indirizzarla voglio dire a le contraddizioni cioè qua si tratta di straordinarietà nell'ordinarietà ormai qui non serve non serve niente perché il territorio è completamente abbandonato noi abbiamo il centro storico che voglio dire con due due uomini che siano di qualsiasi forze dell'ordine è importante perché le persone che passeggiano soprattutto poi naturalmente in questo momento di pandemia a una certo orario è abbandonato la città quindi noi dobbiamo tutelare i commercianti i commercianti sono completamente abbandonati quindi l'appello è al prefetto di attivare con la massima urgenza dei controlli più serrati perché noi siamo completamente abbandonati